bella ragazzi sono daniele oggi sono su snap 3 stelle ragazzi ascoltatevi per favore non vi arrabbiate allora io su snap non sono riuscita a farne un otc quindi ragazzi sono aiutata a fare di un po' di fitti cito qualcosa del genere ragazzi veramente non arrabbiate c'è io ci ho provato non ce l'ho affatto a tutti ragazzi però almeno sono arrivato alla morte qua almeno per poi non sono felici e ragazzi adesso vi faccio vedere allora adesso ho fatto il radar quindi bene possiamo vedere ecco non vuoi che mi era venuto qua bravo è davvero stia Ahahahah! Oh Dio! Beh no! Wow! Ahahahah! Scusi! Scusi! Tu c'è questo? E tu vai via! Ahahahah! Qua! Vai! Tu non fai né con me! Ahahahah! Ahahahah! Scusi! Scusi! Vai! Tu devi tornare qua su sprint! Vieni qua! Scusi! Non devi allontanarti da fa fa! Vai! Scusi! Non va male! Ahahahah! Scusi! Sì! Hi! Figo ce l'ho fatta! E vai! Grazie! Grazie! Oddio! Che succede? Oddio! 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 E basta! Sono un bambino! Sono un bimbo puzza! Oddio! Aspetta! Non mi dire che è il finale! Ragazzi stiamo per vedere il good ending! Credo! Allora sapessi dove sta la camera! Io non devo andare dal guardiano noto! Oddio! Amici miei! Ha smantellato tutti! Aspetta! Aspetta! Non farmi del male! Io vengo! No! Aspetta! Vengo! Ora entro là! Mi riconosci? Mi riconosci adesso! ahahahahahahahahah! Ragazzi! Andiamo nell'universo! Paradiso! Ahhhh il pochè il preciso è diventato super interno Noooo Perchè questa musica? E poi gli extra, springtrap, un trap ancora più bello da vedere, lo tecnico è molto bello, gli occhi di springtrap, di che non macchissene tanto. Questo è Phantom Foxy, preferito di Gabriella, credo, non so, ma credo sì, guardate com'è figo, preferito di un mio amico di nome Luigi, questo è Phantom BB, ma non ballo con me, sei brutto tu, tu sei Phantom Chica, scusate per il brutto ragazzi, perdonatemi, sei Phantom Popo, tu sei Phantom Puppet, non so ma che qua sei rotto. Questo è il gioco là, questo è quello di Wrangle, questo è quello di qualcosa, e questo è quello che è buggato, guardate ragazzi, ci siamo, siamo buggati. Ora mi ricordavo che, oddio, no il bambino, io devo andare dal bambino, il bambino, piccolo tesoruccio, Vieni dal tuo amico, posso essere un po' buggato, ma fidati di me. No, sono andato nell'exit come uno stupido. Quel bambino non si è fidato, vado. Allora, voglio dire ragazzi, è un po' buggato. Allora qua ci sono i cheat. E ragazzi, non so che altro dia. Beh, spero che lo subito ci vediamo, ci vediamo alla prossima. Ciao!